Primavera dello Sport 2015, seconda edizione, bilancio più che positivo, c'è stata una partecipazione ancora più importante delle associazioni locali che hanno contribuito ad un'ottima riuscita di questa manifestazione. Oggi con l'Energia Entra in Gioco siamo alla penultima tappa di questa bella maratona di sport all'aria aperta, nella quale hanno partecipato tanti bambini ma anche tanti adulti. Oggi abbiamo una prova evidente di come lo sport all'aria aperta sia riuscito a coinvolgere varie fasce di età. Come amministrazione siamo assolutamente soddisfatti di questa riuscita e confidiamo in una crescita ulteriore per la terza edizione che sicuramente proporremo l'anno prossimo. Quindi un nuovo invito all'ultima tappa con la quale concluderemo tutti i lavori che è domenica 21 giugno qui sempre al Parco Arcobaleno. Un ringraziamento anche a tutti i relatori che hanno reso possibili i convegni, che hanno animato questa primavera e un ringraziamento a tutti i partecipanti. Un ringraziamento a tutti i lavori che è domenica 21 giugno a tutti i lavori che è domenica 21 giugno a tutti i lavori che è domenica.